E oggi va così, non so come sono le luci, non so nemmeno come è l'audio perché ho perso il microfono, ovviamente sono disordinato, ma va bene lo stesso, quindi benvenuti e bentornati signore e signori fotografi o aspiranti tali e fenauti o ancora un po' indecisi. Oggi vi porto con me in un viaggio impavido nel mondo della street photography e lo faremo in un modo un po' insolito, perché vi porto con me in uno dei miei deliri notturni, giusto per rendervi partecipi un po' della mia follia. Ma in realtà lo sapete tutti quanti, chi mi conosce già lo sa, eppure sapete anche che sono un po' pedante, un tantino, e quindi mi piace ripeterlo volentieri e anche spesso. Ogni fotografia che scattate nasconde una storia, certo non tutte quante sono storie raccontate benissimo, ma sono tutte quante storie uniche, perciò oggi scopriremo insieme quante incredibili storie possono nascere da qualcosa che è apparentemente comune, dopo la sigla. Grazie a tutti! Come punto di partenza usiamo qualcosa che tutti quanti noi abbiamo sotto gli occhi proprio ogni giorno, qualcosa di apparentemente semplice e banale come potrebbe essere un gelato, ma non è del gelato di cui voglio parlarvi oggi. E allora di che cosa? Ecco, mi faccio una domanda. Che cos'è che presa ogni giorno toglie il medico di torno? Appunto, bravi! E' una mela! E riflettiamoci un attimo. C'è la mela di Biancanere, c'è la mela di Adamo e Deva, anche se tecnicamente non è mai stato specificato fosse una mela. Doveva trattarsi probabilmente di un fico, ma i più maliziosi raccontano anche di una banana, che non era la banana di Adamo, ma è un'altra storia. E poi c'è la mela di Guillermo Tell, la mela di Newton con cui ha scoperto la gravità. E poi c'è anche il pomo della discordia, che si chiama così perché proprio da lì è seguito il rapimento di Elena. E tutto il resto è troia. E poi c'è anche la grande mela con cui Edwin Martin, nel suo libro Il viaggiatore a New York, ha identificato New York proprio come una grande mela che riceveva una porzione sproporzionata di soldi pubblici rispetto alle altre parti dell'albero, che erano le città meridionali. E infine c'è anche la mela più famosa del mondo, quella di Apple, chiamata così forse in onore dei Beatles che nel 1968 avevano fondato la loro casa discografica Apple Records, oppure perché i fondatori Steve Jobs e Steve Wozniak volevano apparire nell'elenco telefonico prima dell'azienda Tari, per cui avevano lavorato, o semplicemente perché le mele Macintosh erano il frutto preferito di Steve Jobs. Questa cosa vai a saperla. Certo è che tutte quante queste storie hanno una cosa in comune, ed è proprio la mela. Eppure ancora nessuna di queste storie ci svela la vera essenza di questo frutto. Nessuna di queste storie o di queste leggende ci svela il simbolo profondo e autentico della mela. E allora perché ci stai un po' solleticando le palle con tutte quante queste storie, mi direte? E ve lo dico subito. Perché la mela, secondo me, rappresenta proprio la fantasia selvaggia e rigogliosa della natura, nella sua capacità di essere creativa nel modo più frenetico, e tutti quanti dovremmo ispirarci così alla natura ogni giorno. Diciamoci la verità. Pensiamo alla mela come fosse il frutto più normale, il più banale fra tutti, ma attenzione perché il bello viene proprio qui. Perché da un punto di vista botanico, quello che per molti è il frutto più semplice, in realtà non è nemmeno un vero frutto, è un falso frutto. Questo dettaglio, per quanto sia già da solo affascinante, ci porta a riflettere però non tanto sulla botanica, ma sul simbolismo della mela e proprio come emblema della creatività senza limiti della natura. Pensateci proprio un attimino. Diamo per scontato l'esistenza di mele gialle, di mele rosse, verdi, ma la varietà, la diversità di questi colori e dei sapori delle mele vanno ben oltre quelle che noi conosciamo e che troviamo al supermercato. Esistono più di 2500 varietà di mele e Michael Pollan ce lo descrive benissimo nel suo libro La botanica del desiderio. Ci sono mele nere, come le Black Diamond, e ci sono anche delle mele che hanno il sapore degli altri frutti, come le Winter Banana, oppure quelle che hanno il sapore dell'ananas. Ecco, questa imprevedibilità, questa capacità di sorprendere è quello che rende la mela un simbolo potentissimo. Ed è proprio qui che entra in gioco il parallelo con la street photography. Proprio come la mela. Ogni scatto che catturiamo è unico. È uno scatto irripetibile. È il frutto di un attimo di pura creatività e di pura spontaneità di ognuno di noi. La mela ci insegna che nonostante possiamo trovare delle costanti, come le varietà più conosciute grazie all'innesto, ogni esemplare di mela ha la sua unicità. Proprio come ogni fotografo. Proprio come ogni volto che ritraiamo. Ogni angolo di strada che immortaliamo con la nostra fotocamera. Sono tutti unici. Questa varietà straordinaria ci ricorda proprio l'importanza di osservare il mondo con occhi nuovi, occhi curiosi, occhi aperti, pronti a scoprire e catturare la sua essenza inaspettata, quella più mutevole. E questo perché attraverso gli occhi di un fotografo anche il più comune degli oggetti può rivelare dei mondi nascosti e delle storie assolutamente inaspettate. Però non finisce qui. O non sarei completamente folle. Perché vi invito anche a considerare la vostra macchina fotografica proprio come fosse essa stessa una mela. La mela, cari effenauti, è un frutto che sfida l'ordinario con la sua incredibile diversità. E non sto parlando soltanto della varietà che riempiono i banchi dei nostri supermercati, ma della sua sorprendente capacità di trasformarsi. Ogni mela è un universo di forme, di colori, di sapori e un cariidoscopio naturale. Ma la cosa davvero affascinante è assolutamente un'altra. Sapete il detto che la mela non cade mai troppo lontano dall'albero? Ecco, nel mondo delle mele le cose funzionano in maniera un po' diversa. A differenza di noi, infatti, dove spesso si dice tale padre e tale figlio per indicare il fatto che ci tramandiamo pregi e difetti. Con le mele questa cosa non succede. La mela che nasce da un seme può essere completamente diversa dalla sua antenata. Una mela Golden Delicious, per esempio, non darà necessariamente vita a una nuova generazione di mele Golden Delicious. Anzi, i suoi semi potrebbero sorprenderci con qualcosa di inaspettato, tanto che alcune delle nuove mele potrebbero addirittura non essere commestibili. Avete notato, infatti, che non esistono sacchetti di semi di mela in vendita, come, per esempio, ci sono i sacchetti di semi per le zucchine, per i pomodori oppure per altri ortaggi. Questo perché piantando i semi delle mele non si può prevedere quale varietà di mela otterremo. Ed è un po' come tirare i dadi al casino. È un esperimento affascinante e sicuramente imprevedibile. Ed è proprio qui che nasce la domanda. Come facciamo, allora, ad avere sempre disponibili le Golden Delicious, le Pink Lady oppure le mele Fuji? La risposta è in un'antica tecnica che è chiamata innesto. In pratica si prende un rametto di un albero che produce la mela che ci piace e lo innestiamo su un altro albero. Questo processo ci permette di clonare le caratteristiche della mela originale, assicurandoci perciò la continuità di quella varietà che tanto amiamo. Quindi, ecco, siate consapevoli che dalla vostra macchina fotografica possono uscire scatti sempre diversi, storie mai uguali a quelle già raccontate da voi stessi oppure da altri. I sensori delle vostre macchine fotografiche sono come i semi della mela, producono delle foto inaspettate, foto uniche. Alcune saranno sicuramente da buttare, ma saranno tutte quante foto diverse e soprattutto foto originali. Non lasciatevi innestare o risucchiare dai cliché di cui abbiamo già parlato giovedì con Samuele Gianluca di The Street Trover. Utilizzate le immagini che guardate e che vi piacciono come ispirazione e non come stili da raggiungere o da imitare a tutti i costi. Accettateli i consigli di chi vi parla, ma come una nuova prospettiva e non come un innesto puro. Quando sentite dire da qualcuno che il mondo è già troppo pieno di immagini, rispondetegli sì che è vero, il mondo è già pieno di immagini, ma sono tutte quante immagini uguali, non sono le vostre fotografie, che invece sono tutte quante diverse. Ogni volta che vi apprestate a scattare una fotografia nelle vostre avventure di street photography, pensate alla mela. Lasciatevi ispirare proprio dalla sua capacità di essere sempre diversa, sempre sorprendente, unica. Come fotografi di strada, il nostro compito è quello di trovare e raccontare l'unicità del quotidiano, l'imprevedibilità nella routine, la bellezza dell'ordinario, il nostro personalissimo modo di vedere il mondo. La mela è proprio un frutto che ci invita a celebrare l'originalità, ci invita ad essere autentici e a ricordarci che proprio come ogni mela è unica, così dovrebbe essere anche ogni nostra fotografia. Un viaggio alla scoperta non soltanto delle storie nascoste nelle strade che percorriamo tutti i giorni, ma anche un viaggio alla scoperta di noi stessi e del nostro personale sguardo sul mondo. Ciao e alla prossima settimana. Grazie a tutti i nostri spettatori